Quando sembra piovere sempre sul bagnato, quando ci sentiamo con l'acqua alla gola, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno, perché noi italiani siamo bravissimi a calmare le acque con amore e a riempire la cucina di vita e di acquoline in bocca. Tu, come stai utilizzando l'acqua? Raccontacelo! Mandaci i tuoi video e foto su WhatsApp. Hai tempo fino al 31 gennaio. Le migliori proposte saranno trasmesse su Telegram Ducato.